Regione e pendolari insieme per rappresentare al ministro Danilo Toninelli una situazione ritenuta ormai non più sostenibile, ovvero l'interferenza dei treni ad alta velocità con quelli regionali sulla linea della direttissima. Da due anni, afferma l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, stiamo combattendo per ottenere maggiore rispetto dei diritti dei pendolari che anche grazie all'impegno della regione toscana affollano i nostri treni. A parole tutti sembrano darci ragione ma in pratica ad ogni cambio di orario vengono inseriti nuovi treni di alta velocità su una linea già palesemente satura. Così è accaduto a giugno vanificando i buoni risultati ottenuti nei primi mesi del 2019. In barba ai diritti dei pendolari, afferma Ceccarelli, l'unico interesse che viene tutelato sembra essere quello della concorrenza tra i due gestori dell'alta velocità. Con i comitati dei pendolari abbiamo condiviso la volontà di portare sul tavolo del ministro Toninelli la questione, fin dal suo insediamento aveva infatti affermato di volersi fare paladino dei diritti di chi utilizza il treno. Ci auguriamo che ci riceva e che possa finalmente intervenire. Ceccarelli interviene anche sulla linea ferroviaria Stia-Rezzo-Sinalunga che negli ultimi tempi ha subito alcuni disagi. Stanno per partire, afferma, i lavori per il sistema di controllo automatico della marcia del treno di massimo livello per il quale la regione toscana ha stanziato circa 20 milioni di euro. Grazie. 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 Grazie.